Come benvenuto al corso spieghiamo come si fanno i giri, che è una cosa che in realtà pochi sanno fare correttamente. Allora, il giocatore più anziano, che sarei io, prende le pietre bianche e ne estrae un po', senza farle vedere all'altro. Nero ne prende una o due perché deve indovinare se queste sono pari o dispari. Quanti sono? Io penso che sono dispari, che si hanno dispari. E infatti sono dispari. Hai indovinato per cui tieni nero. Se non avessi indovinato avrei preso nero io.